Banca Monte dei Paschi rende omaggio a Giuseppe Partini, il grande architetto senese che contribuì in maniera determinante a dare il volto che la città di Siena e Rocca Salimbeni hanno ancora oggi. L'attuale aspetto della sede storica con i tre palazzi Tantucci, Salimbeni e Spannocchi e la piazza antistante sono infatti frutto del suo genio artistico. Studiosi ed esperti hanno dedicato a Partini una giornata di approfondimento organizzata da Banca MPS con l'Università di Siena e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. A portare i saluti della banca il vice direttore generale vicario Angelo Barbarulo. Questa in realtà non era una piazza, era una strada in fondo alla quale, al fondo di questa stretta strada, c'era quello che oggi è l'ingresso principale della banca Monte dei Paschi di Siena. La banca nel ridisegnare questa piazza, quindi nel dare uno spazio importante e rilevante alla sua sede storica, al suo ingresso, ha in realtà anche messo a disposizione di questa città una piazza che insieme sicuramente alla più nota piazza del campo, penso sia oggi uno degli elementi di attenzione da parte dei sienesi ma anche dei tanti turisti che visitano la nostra città. L'iniziativa è stata anche l'occasione per presentare il completamento del restauro della sala delle adunanze e della deputazione amministratrice progettata da Partini e riallestita al primo piano della torre della Dogana nella sede storica della banca. Un autentico capolavoro per arredo e decorazioni che fu inaugurato proprio il 24 novembre 1897. I lavori del convegno hanno sottolineato come Partini rappresenti una delle personalità più interessanti tra gli architetti del XIX secolo.